Abbiamo raggiunto la nostra seconda vittoria in questo campionato per 3 a 1, siamo molto felici perché l'obiettivo era proprio quello di vincere, il rientro di Salvetti diventa sempre più stabile e su questa cosa sono molto contento. Oggi è rientrata anche Frapporti che non è ancora al top e abbiamo voluto testarla perché comunque deve riprendere un po' il campo e a tal proposito ho giocato anche ieri in prima divisione e devo dire che sono veramente contento di come abbiamo affrontato la partita. Anche se ci sono stati momenti abbastanza difficili o complicati perché nel primo set siamo partiti via subito bene con le battute di Papa e poi di Marinoni, ci siamo portati sul 10-2. Siamo scappati via ancora fino a metà set e poi dopo lì hanno fatto loro un break dove noi non riuscivamo a cambiare una posizione tra l'altro a noi vantaggiosa perché loro avevano un palleggiatore che non era molto alto e quindi potevamo attaccare a posto 4 in linea e Salvetti si intestardiva ad attaccare in diagonale lunga e riusciva anche a cambiare palla. Risolta la situazione loro comunque hanno recuperato punti su punti e siamo arrivati poi a chiudere il set sul 24-26 e pertanto devo dire che nonostante il loro grande recupero alla fine sono stati bravi a voler comunque chiudere il set. Il secondo set è andato via abbastanza facile perché Gunnar ha indovinato un po' di battute in salto spin, loro sono andati molto in difficoltà sul servizio dei Gunnar, si è andati via su tutti i punti ed è stato un set dove loro si sono lasciati un po' andare e quindi ci hanno facilitato e abbiamo chiuso a 12. il terzo set, temevo questo terzo set, un calo di tensione e purtroppo la prima che mi salta sempre a livello di concentrazione e Gasparini tant'è che la prima parla che ha attaccato mi hanno attaccato a mezza rete e poi ha continuato a sbagliare con gli attacchi sulla diagonale che tra l'altro vi avevo chiesto io di attaccare in diagonale però attaccava nettamente fuori cercando sempre di più la diagonale stretta e poi vabbè ho cercato di recuperare qualcosa mettendo dentro il Bergamaschi che è entrato bene nel servizio e ha giocato secondo me bene, ha fatto il suo e poi invece è scappata via e abbiamo perso 27 a 25 se non ero. Il quarto set sono stati a mio avviso veramente bravi, il Papa sta migliorando tantissimo per quanto riguarda la continuità del servizio è una che quando si mette lì riesce a dare una buona continuità e con battute non facili da ricevere, una certa incisività e a differenza di un po' di tempo fa dove magari te ne faceva una sì e l'altra no, adesso comunque ha la capacità di tenere il quale 4, 5, 6 battute consecutive e poi magari è giusto che poi molli leggermente. Cosa dobbiamo ancora migliorare? Allora noto che quando partiamo a giocare le partite abbiamo una buona capacità di utilizzare i centri e man mano che proseguiamo nel gioco i centri vengono sempre più esclusi, questo penso che sia un duplice problema il primo è che magari incominciamo a diventare meno precise per quanto riguarda i primi tocchi, sia per quanto riguarda la ricezione per quanto riguarda gli appoggi, ma dall'altra sul quale devo lavorare a mio viso a livello mentale è proprio che il palleggio mi sembra che vada un po' troppo in situazioni di incertezza e spesso l'annulla a priori la scelta del centrale. Niente, siamo a 6 punti, speriamo che questo ci dia ulteriore fiducia in attesa di altri rientri importanti perché consideriamo che anche oggi è mancato ancora Tomasi, c'è mancato anche Di Giulio e anche Beschi e non ci possiamo scordare di Miljokovic che ha la mononucleosi e siamo in attesa che i valori migliorino.